Allora iniziamo questo panel che ha il cappello donne informatica e abbiamo Eleonora Pantò, Maria Cecilia Averame e Floriana Ferrara. Il problema del quale andiamo a parlare si inserisce nell'ambito più grande delle donne mondo del lavoro, dato che l'informatica è l'ambito di lavoro sempre più in espansione che incontra due problematiche, quello dell'inserimento nel lavoro ma ancora prima dell'approccio culturale e didattico a una tematica tecnico-scientifica che sbagliando magari il mondo considera più adatto al mondo maschile. Cerchiamo di capire quali sono gli approcci di questi ospiti per andare addosso e contro questo problema. Prego. Prova, prova, ok. Allora buongiorno, sono Eleonora Pantò e sono appunto qui, molto felice di essere qui. Collaboro col MUPIM da alcuni anni, in particolare organizziamo la giornata The Day e questo è un po' come dire sempre nel filone di queste tematiche appunto, quindi donne, tecnologia e informatica. La presentazione, io vorrei farvi una breve presentazione, spero di essere abbastanza veloce, che fa un po' diciamo un quadro generale sulle problematiche legate all'uso dell'informatica in generale e in particolare legate anche al tema femminile. Vado abbastanza veloce perché questa presentazione è stata preparata per un altro, l'avevo pensata per un altro pubblico, però insomma diciamo che magari voi avete le competenze già che servono. Il tema è questo, il software si sta mangiando il mondo, questo l'ha detto Mark Anderson nel 2011 quando praticamente in questo articolo che ha scritto sul Washington Post voleva come dire attirare l'attenzione sul fatto che gli investimenti del futuro e che tutta l'industria sarebbe diventata come dire molto più informatizzata. Questo l'abbiamo visto, lo vediamo appunto attraverso l'evoluzione degli strumenti, ormai col computer possiamo fare qualsiasi cosa, non abbiamo bisogno di tutte quelle cose sulla scrivania. e sappiamo che appunto anche tutte le professioni in realtà stanno diventando sempre più legate all'informatica per cui si parla di dall'agricoltura alla medicina alla manifattura che in qualsiasi ambito di lavoro non si può più come dire distinguere il discorso dell'informatica. Per questo Obama all'inizio del 2016 aveva lanciato questo programma che si chiamava Computer Science for All perché diceva appunto che in tutte le scuole tutti i bambini avrebbero dovuto imparare a programmare per essere come dire già pronti al mondo dell'informatica e al mondo del lavoro. Questo ha portato a una diffusione molto ampia di questa tematica ovvero dell'insegnamento del coding nella scuola. Su questo tema c'è un grande dibattito nel senso che non tutti sono d'accordo sul fatto che la scuola debba investire energie e denari e soldi su questo tema e c'è anche un grosso dibattito su che cosa sia effettivamente il coding e anche su quello che sta dietro che viene chiamato pensiero computazionale. Stamattina io lavoro anche in un'altra associazione che si chiama Discola, abbiamo fatto la premiazione, facciamo un concorso nazionale ogni anno sull'uso di scratch che si chiama Italian Scratch Festival e abbiamo ricevuto un centinaio di lavoro. A un certo punto è venuto da me un genitore e mi ha detto ma perché insegnate queste cose ai bambini invece che l'informatica fatta di zeri e uno? Perché in questo modo non capiscono cosa c'è sotto. Queste appunto sono le due facce della polemica su cui magari Cecilia potrà aggiungere qualcosa. Ecco, internet è la casa di tutti, il web è per tutti, non so se ricordate che all'apertura delle Olimpiadi di Londra Tim Berners-Lee, che è quello che ha inventato il web, aveva mandato un tweet con scritto questo è per tutti. Lui ha dato la sua invenzione al mondo, l'ha regalata, proprio perché abbiamo sempre pensato che la rete e l'informatica fossero un'opportunità per tutti. Tuttavia invece c'è tutta una fetta di popolazione, in particolare femminile, che in qualche modo non riesce ad avvicinarsi a questo ambiente. Soprattutto nelle grandi corporate americane e in generale nel mondo dell'informatica la presenza femminile è molto scarsa. Ci sono poi appunto per questo motivo delle persone che fanno come dire azione di promozione, in questo caso questa è Megan Smith, l'ex vicepresidente di Google che aveva lanciato una campagna apposta per le donne e che Obama aveva voluto a suo fianco come responsabile tecnologico della Casa Bianca. Ma qui abbiamo poi degli esempi molto interessanti da approfondire. Le donne in realtà nell'informatica ci sono sempre state, non so se qualcuno ha visto questo film, molto carino. In realtà i primi computer della NASA, le donne avevano un ruolo molto importante dal punto di vista tecnico, ma un ruolo che non è stato mai né valorizzato né molto riconosciuto. Leggevo di recente che non sono neanche state invitate alle cene di festeggiamento dei primi lavori che sono stati fatti. In realtà c'è un problema di discriminazione che è misurato dall'Ocse, quindi non è una questione che sono le solite che si lamentano. No, c'è effettivamente una distanza tra quella che è l'occupazione maschile e femminile in questo settore e anche il cosiddetto gap nella retribuzione. Le donne mediamente in ambito informatica guadagnano fra il 78 e l'80% di quello che guadagna un uomo a parità di incarico. Quando l'Ocse ha intervistato per esempio i datori di lavoro e gli ha chiesto quali erano secondo loro le ragioni principali per la discriminazione, ovviamente sono venute fuori un po' le solite cose, difficoltà a conciliare tempi di lavoro, tempi della casa, ma purtroppo quello che viene fuori spesso è che dicono che non ci sono donne abbastanza brave, che non ci sono abbastanza competenze, che loro non le trovano. Quando in realtà ci sono moltissime ricerche che hanno dimostrato che quando i selezionatori non sanno se quello che da una parte è una donna o un uomo, la percentuale di donne che vengono scelte è molto più alta, proprio perché ci sono comunque degli problemi di discriminazione a volte anche involontaria. Da questo discorso appunto del tema dell'occupazione vorrei passare adesso al tema dell'algoritmo. La differenza tra algoritmo e codice, qui siamo in un contesto di tecnici, quindi non sto a spiegarla, però quello che sappiamo è che effettivamente la vera differenza la fa un buon algoritmo. Questo è un report americano del 2010 che dice abbiamo capito che in realtà la vera differenza non la fa la velocità del processore, ma la fa la qualità dell'algoritmo. Di questi algoritmi ultimamente si parla moltissimo a sproposito, soprattutto nel mondo della scuola. L'anno scorso c'era stata una grande sollevazione popolare, proprio perché sono cambiate le regole di assegnamento di graduatori e degli insegnanti per i posti, e però non si capivano quali fossero i criteri. Allora si è data la colpa all'algoritmo, quindi questo titolava l'algoritmo impazzito, dice il giornalista, che manda le persone a casa in giro per l'Italia. Ovviamente l'algoritmo qualcuno l'ha scritto, quindi le regole qualcuno le ha messe dentro. Tanto è vero che appunto i sindacati avevano chiesto trasparenza sull'algoritmo, che questo è proprio il vero problema, il ministero non ha mai risposto in questi termini, fino a che appunto c'è una sentenza di marzo che dice il ministero deve dire com'era fatto l'algoritmo. Su questa mancanza di trasparenza ce n'è, ho fatto qua qualche esempio, ma ce n'è vari. Per esempio il tema di Facebook, come fa Facebook a filtrare i contenuti? Non so se avevate seguito questo caso, a un certo punto Facebook aveva censurato la foto della bambina di Saigon perché andava contro le regole della pedopornografia infantile, perché era una bambina nuda. Il giornalista che aveva fatto questa ricerca sulle foto di guerra ovviamente si è molto arrabbiato, ha pagato una pagina su un quotidiano svedese per dire questa cosa qui e da lì è iniziato tutto un ragionamento sul fatto che a quel punto Facebook non è solo una piattaforma ma è un editore perché si permette di fare delle scelte, delle selezioni su quello che noi vediamo o non vediamo ma sappiamo appunto che il potere di queste cose è sempre più ampio. Ovviamente l'algoritmo non è sempre colpevole, per esempio in questo caso mettere insieme dati, dati aperti, un'altra questione molto interessante, permette ad alcuni ricercatori di scoprire per esempio delle connessioni fra delitti irrisolti. Questo signore ha preso un po' di dati dell'FBI, dei dati dei comuni ed ha trovato delle tracce che potevano collegare dei diritti irrisolti ad una sola persona. Un altro problema legato all'algoritmo sono le cosiddette economie della piattaforma, prima si chiamava sharing economy, poi si sono accorti che non c'erano molti che condividevano ma c'era qualcuno che, diciamo così, accentrava le cose, poi si è parlato di gig economy come economia dei lavoretti fino ad arrivare all'economia della piattaforma. Quindi questa è una presentazione molto bella che è stata fatta al centro NEXA di Torino che è un ente del Politecnico, dove appunto è stato affrontato in modo molto esteso questo discorso, vi consiglio di andarlo a cercare, è il tema che dice, ho tratto da questa presentazione due pensieri, uno è questo, in cui dice il problema non è tanto che le macchine ci tolgono il lavoro ma che ci lasciano il lavoro più stupido, quindi in realtà oggi il lavoro più stupido lo fanno gli umani, molto spesso, gli umani che sono, come dire, relegati a funzioni noiose e umili. Non so se conoscete il turco meccanico, è un'applicazione di Amazon in cui, per esempio, se voi dovete far fare dei lavoretti molto piccoli ma, come dire, molto semplici, tipo che ne so, riconoscere delle cose dentro delle fotografie, anziché scrivere un programma complicato, si pagano delle persone che per pochi centesimi fanno questa attività. L'altro aspetto interessante, che è quest'altra riflessione che ho colto, è questa cosa che dice, prima dell'avvento di queste piattaforme non era possibile assumere una persona e licenziarla dopo dieci minuti, mentre invece oggi si può fare tranquillamente. Ci sono tantissime cose connesse a queste problematiche che sono appunto anche legate al fatto che se voi siete un autista di Uber, molto bravo, e che con Uber avete una qualifica molto alta perché siete stati sempre disponibili, eccetera, se cambiate piattaforma, tutto l'expertise che avevate maturato in quell'ambiente viene perso. Quindi in realtà si ricomincia sempre da zero. Non stiamo a vedere questa cosa della politica, sapete che appunto ormai è abbastanza consolidato che sia la Brexit sia la vittoria di Trump sono stati dovuti all'uso scientifico dei dati raccolti attraverso le piattaforme, anche perché appunto ci sono degli studi che dimostrano che ci sono queste che noi possiamo essere definiti con alcuni parametri e utilizzando questi parametri che sono le cosiddette 5S, se non ricordo male, con 70 persone, con 70 like su Facebook, un software è in grado di dire quello che sa un amico di voi. Cioè con 70 like ha la conoscenza di voi che è un vostro amico, con 150 like può sapere di voi quello che sa più o meno un genitore e con 300 like quello che sa un partner. Con più di questi like dice che sa più di noi stessi quello che sappiamo di noi. Se siete curiosi, per esempio c'è questo software molto carino che si trova, è un plugin dei browser che si chiama Data Selfie e potete vedere in tempo reale che tipo di caratteristiche raccoglie di voi e come vi profila. Quindi appunto in realtà questa cosa degli algoritmi, della raccolta dei dati, dell'intelligenza artificiale è molto come dire pervasiva. Il problema è che questi algoritmi a un certo punto imparano da quello che gli diciamo noi. Allora, per esempio, c'è stato questo caso della Microsoft che ha messo online un'intelligenza artificiale su Twitter che nel giro di poche ore ha dovuto, come dire, ritirare perché questa intelligenza artificiale aveva imparato le peggio cose. Quindi aveva cominciato a insultare tutti perché ovviamente gli input che avevano era di quel tipo lì. Voglio andare molto veloce, quindi vi consiglio e vi chiedo di vedervi questi due video su TED. Conoscete TED, immagino. Uno è di questa ragazza che spiega appunto come un software di riconoscimento facciale non riconosca le persone con la pelle scura. E quindi di fatto questi software hanno delle problematiche di questo tipo e lei ha fondato una società che si batte per eliminare questi stereotipi. E questo anche casualmente di nuovo di una donna che parla appunto molto bene di tutte quelle che sono diciamo le limitazioni degli algoritmi e di come gli umani siano in fondo responsabili di tutta questa parte qua. Sapete anche che ci sono tantissimi bot, sapete cosa sono i bot, no? Questi software che fanno dei chatbot più che altro, che fanno interfacce conversazionali che se volete ce n'è uno molto carino fatto dalle donne per le donne che si chiama Ask Cindy che vi guida a, come dire, praticamente vi chiede quanto guadagnate, cosa fate e vi dice quanto dovreste guadagnare per quel tipo di qualifica e vi guida a fare una trattativa di lavoro per farvi alzare lo stipendio. Quindi è molto divertente, per le donne è fatto. Perché il problema si dice che le donne hanno è quello di non essere abbastanza capaci a chiedere. Non lo so se sia vero comunque. Questo è quello che si dice. Quindi ho finito, dico solo appunto questo. Ovviamente tutti i modelli sono sbagliati ma alcuni sono utili. Quindi non è che noi vogliamo buttare via tutto quello che riguarda diciamo il concetto di intelligenza artificiale. Però quello che dobbiamo fare è non accettare mai come risposta è colpa dell'algoritmo. Ok? Grazie. Un attimo che mi sistemo. Eleonora è stata... Che cosa può essere qua? Eleonora è stato un fiume di anche spunti e... Quando uno recepisce degli spunti resta... Inquadriamoli all'interno di un discorso. Sarebbe bello riuscire a riprenderli adeguatamente. Sto parlando per sistemare... Sì. Aspetta, vediamo. La presentazione è in pdf. Sarebbe... E quindi... Ok. Dicevo, sono rimasta un po' presa dall'intervento di Eleonora perché comunque ha citato alcune cose e vorrei poi intervenire. Se non lo faccio durante la presentazione ricordamelo rispetto a formazione di bit o formazione con scratch. Dobbiamo insegnare attraverso programmi facilitati o insegnare la programmazione, diciamo, doc che imparammo anni fa. Ne parliamo poi più avanti. Diciamo che ogni... Quando mi si chiede di parlare di donna informatica resto sempre un po' spiazzata. Ancora più spiazzata. Perché, francamente, il fatto di essere... Diciamo, nella vita quotidiana si lavora. Io lavoro, lavoro con donne. Anzi, lavoro prevalentemente con donne. Lavoro con donne informatiche. Non ci capita praticamente mai di notare che siamo donne. Vado nelle scuole facendo degli interventi di formazione. Quando facciamo i laboratori di robotica, di programmazione, un 60% dei partecipanti sono bambine e sono dei fuochi di idee e di immagini. Se io penso a quella che è la mia storia, a me bambina, ai miei punti di riferimento, ho dei punti di riferimento femminili, forti, che mi hanno ispirato. E dico, ma cavoli, dobbiamo tutte le volte tornare qua e parlare di questo tema? Sì, dobbiamo parlare di questo tema. Perché, esempio stupido, io ho, per esempio, una società al 50% con mio marito e tendenzialmente ora ce la usiamo un pochino come marketing, devo dire che oramai facciamo i furbetti anche noi, ci sono delle situazioni in cui sappiamo che è meglio che io faccia la sua segretaria e lui faccia il socio principale. Altre in cui sappiamo di potercela cavare in maniera più paritaria. Sì, effettivamente si sente, si sente sul lavoro, si sente l'80% di stipendio relativo agli uomini, si sente una sorta di immagine diversa. Ho provato un pochino a cercare di capire, soprattutto nel momento in cui io guardo queste bambine che programmano, che imparano e che sono appassionate a capire qual è la differenza, che cosa c'è di diverso. Perché l'immagine che avete alle mie spalle, che mi serviva un pochino da introduzione, è l'immagine di un gruppo di donne che a partire dal 1939 formarono il computer di un centro del laboratorio della California dove si studiava la propulsione per gli aerei e per, mi esprimo non tecnicamente, perché non è il settore, per il lancio delle bombe, diciamo, si facevano i calcoli sull'aerodinamica degli aerei. Erano prevalentemente donne, erano donne laureate in informatica, matematica, ingegneria e a partire dal 1940, con lo scopio della seconda guerra mondiale con Pearl Harbor si sono occupati prevalentemente del settore bellico e al termine della guerra questo gruppo di lavoro fu istituzionalizzato, a capo venne messa una donna e questa donna stabilì, richiese che all'interno di questo gruppo lavorassero soltanto donne, per due motivi. Il primo perché doveva essere riconosciuta come capo e se gli avessero messo degli uomini dentro il suo ruolo sarebbe stato messo in dubbio in maniera maggiore. Il secondo è perché lei sosteneva, e questo io non conosco ricerca in proposito sulla veridicità o meno, che all'interno di un team di donne la collaborazione per un unico obiettivo possa essere in qualche modo maggiore rispetto a un gruppo misto uomini e donne. La foto è tagliata, le donne erano 40-60, sono arrivate a 60 intorno agli anni 60, giusto appunto. era un team veramente ampio e fu uno dei primi luoghi di lavoro americani dove si iniziò a pensare che le donne potessero ricevere uno stipendio durante la maternità, per esempio, mentre prima non si poneva al problema. Ho accennato prima punti di riferimento, Margaret Hamilton è un'ingegnere informatico che si è laureata verso la fine degli anni 50, negli anni 60 si è sposata, aveva stabilito con il marito che per circa 3 o 4 anni lo avrebbe sostenuto nella sua carriera lavorativa perché avevano appena avuto un bambino, le offrono un posto di lavoro all'MIT di Boston dove succede una cosa divertentissima. Ai nuovi entrati davano da fare una sorta di giochino, ovvero terminare un programma iniziato dove le righe in codice erano commentate in greco e in latino e mancavano dei punti fondamentali del codice cosiddetto. Lei se lo prese un pochino come passatempo e lo concluse e non solo lo concluse ma le istruzioni le pubblicò solo ed esclusivamente in greco e in latino dicendo voi così me l'avete dato io vi dimostro che sono in grado di farlo. Nel 1961 lei era capo del settore, ora io i nomi li sbaglio sempre, del settore, capo sviluppo del software di bollo dell'Apollo e fu responsabile del software dell'Apollo 11 che nel 61-62 fece il primo volo. Qui la vediamo all'interno del modulo di comando. Dicevo, ritorniamo un pochino all'oggi, donne che ieri c'erano e come dire, lavoravano senza disturbare. All'interno del, come dicevo prima, lavoro prevalentemente con donne e abbiamo con un team di donne, ma casualmente non è una scelta, un gruppo di lavoro che si è costituito per la diffusione, la promozione della robotica sia all'interno delle aule con corsi di formazione sia invece in maniera ricreativa a casa. Abbiamo creato una piccola valigetta con un kit robotico a basso costo, con materiali a costo limitato e una serie di istruzioni. All'interno di questo progetto ho lavorato io, ho lavorato l'autrice che è una divulgatrice scientifica che si occupa di divulgazione della robotica e della programmazione, ha lavorato una grafica, hanno lavorato diverse figure e l'abbiamo lavorato una persona che ha testato ogni esperimento scientifico, eccetera. Una caratteristica, al di là del fatto che voi siamo femmine, o una caratteristica del nostro lavoro è che se qualcuno ci chiedesse che lavoro facciamo, nessuno di noi dice di avere esperienza in tecnologia, in programmazione, in robotica, perché la viviamo, qui un po' tutti quanti, come se fosse una caratteristica che ci serve per fare qualcos'altro, ma non è l'obiettivo. Qui un po' mi ricollego a quanto diceva Eleonora, ma perché non gli insegniamo la matematica e le basi della programmazione invece che fargli, virgolette, giocare con Scratch? Nel momento in cui io mi trovo davanti a un gruppo di ragazzini che costruiscono delle creature robotiche che giocano e che sperimentano, ho tendenzialmente, qui di nuovo, lo so, è una descrizione che faccio quindi non porto dati scientifici ma secondo me sarebbe interessante farlo, ho tendenzialmente davanti a me due atteggiamenti che sono leggermente differenti, tante bambine e tante bambine che vogliono scoprire come funzionano delle cose perché hanno un progetto in testa da realizzare, ovvero la bambina parte facendo una scheda, può essere questa qua, non so se immagini si vedono poco, una scheda di un robot che vuole realizzare, di un progetto, di una macchinina, di un qualche cosa e cerca le competenze e le conoscenze che possono servire a lei per raggiungere il suo obiettivo. Molto più, proviene molto più dalla parte maschile dei partecipanti, l'idea di voler apprendere qualcosa per sapere quello, cioè la bambina ti dice a me serve l'informatica perché se non imparo l'informatica non faccio funzionare il mio gioco che ho in testa e che voglio costruire. Il ragazzino molto spesso ti dice io voglio imparare l'informatica perché quello è il mio obiettivo e mostrando quindi diciamo un atteggiamento che tutto sommato è differente. Poi su questo di parte posso dire che l'entusiasmo delle bambine coinvolge sempre. È più difficile forse anche per un maschio raccontare il progetto che c'è dietro. Certo però ti trovi dei ragazzini che a uguale livello di competenze raggiunte ti dicono io da grande voglio fare l'università di lettere o storia eccetera e utilizzare quello che ho imparato in quello che farò e dei ragazzini che ti dicono io da grande vorrò andare all'università di ingegneria. Questo secondo me è una caratteristica che è importante da contemplare nel momento in cui si fa formazione e si lavora e con i bambini e con gli insegnanti ovvero perché lo facciamo cioè che cos'è che vogliamo avere dopo una schiera di programmatori iscritti che si iscriveranno alle università di ingegneria o di programmazione o un innalzamento delle competenze base in questi settori che sia capace di contaminare tutte le discipline e che sia capace di innalzare il livello medio nel 2001 George Bush fece un atto dalle sorti poi anche abbastanza sfortunate devo dire non ebbe i risultati che volevo ottenere e molti dibattiti sono nati attorno a questo in cui No Child Left Behind in cui stabilì alcune capacità di letto scrittura e di matematica che tutti i bambini che uscivano dalle scuole obbligatorie americane dovevano avere istituendo una sorta di livello medio quello che potremmo identificare malamente con i nostri invalsi ovvero un livello che deve essere raggiunto da ogni bambino assieme alle competenze di base da raggiungere in questi settori ci furono una serie di proposte per identificare quali fossero le competenze di base a livello informatico tecnologico di navigazione in rete dei bambini ora uno dei quadri che io utilizzo come quadro di riferimento per questo non ha a che fare con quanti programmi so utilizzare che cosa so costruire quali risultati posso ottenere facendo una cosa ma con una serie di abilità che sono di nuovo abilità che devono essere trasversali all'interno della vita sociale di un ragazzino il quadro di riferimento che ho utilizzato in questo momento è quello di Jenkins che trovate in culture partecipative competenze digitali quali sono le competenze digitali da passare e di cui sostenere la diffusione tanto nei maschi quanto nelle femmine la capacità di fare esperienze di quello che si trova in rete di giocare e di risolvere e di trovare soluzioni la capacità di interpretare ciò che si legge ciò che si trova di costruire dei modelli che siano dinamici che possano fornire risposte a seconda delle varie questioni che si affrontano capacità di impersonare personalità alternative di immaginarsi altri quindi queste sono molto legate alla navigazione quindi di navigare in rete comprendendo il proprio punto di vista comprendendo il punto di vista degli altri riuscendo a effettuare una sintesi e riuscendo a immaginarsi altro da sé l'abilità quindi la capacità di saper miscelare contenuti provenienti da media differenti quindi di manipolare di riconoscere e modificare ciò che si presenta davanti e via sono le riassumo abbastanza sono tutte abbastanza legate e legate l'intelligenza collettiva la necessità di riuscire a trovare delle risposte delle soluzioni a dei problemi che si presentano non più individualmente all'interno della propria camera in uno studio che è uno studio individuale ma in un luogo che è collettivo dove più persone si incontrano e quindi di interagire con gli altri abilità di giudizio fondamentali di comprensione esempio fonti capacità di rilevazione della correttezza o meno di una fonte di riconoscimento di chi proviene questa fonte di manipolazione delle informazioni ricevute e di ritrasmissione all'esterno e quindi riorganizzazione e produzione propria di informazioni questo quadro ripeto ancora una volta non ha a che fare con delle competenze e delle conoscenze tecniche all'interno di un programma se noi pensiamo ai nostri giovani questi sono alcuni dati di una ricerca di Ipsos per Save the Children del 2015 l'hanno rifatta quest'anno è uscita quella del 2016 i risultati sono molto simili i ragazzi vivono all'interno della tecnologia questo credo che siano cose abbastanza note per tutti un terzo dei giovani dai 13 anni ha un blog produce contenuti online il 75% conversa su Facebook il 59% utilizza Whatsapp il 58% dichiara scusate utilizzano motivi motori di ricerca per cercare informazioni Wikipedia eccetera un giovane su quattro dichiara di aver creato una nuova voce su Wikipedia a me sembra un risultato altissimo dai 13 anni in su mi sembra un buon risultato il 59% di loro dice di aver imparato a fare tutte queste cose da solo di non aver avuto un punto di riferimento un insegnante un genitore eccetera che lo guidasse nella scoperta della rete ora mettendo un attimo in pausa questo discorso e vedendo un pochino quella che è la nostra scuola quattro dati veloci la percentuale di donne nella scuola è superiore alla media europea passiamo da un 98% nella scuola primaria a un 58% nella secondaria di secondo grado l'Italia ha la scuola con l'età media più elevata intorno ai 51 anni e il range di età più affollato cioè la frequenza direi che si chiama va dai 48 dai 44 ai 58 anni che è superiore a quella media europea direi di 4 di 5 anni insegnanti che dichiarano di utilizzare strumenti digitali all'interno della didattica questi sono dati invece risalenti al 2009 quindi un pochino più datati mai superiore al 20% e ogni settimana leggermente inferiore al 20% diciamo che la frequenza maggiore va fra le due volte l'anno e le quattro volte l'anno quindi un utilizzo abbastanza raro chi utilizza quali suddivisioni per discipline di materie insegnate quali insegnanti utilizzano strumentazioni informatiche abbiamo naturalmente al primo posto insegnanti multidisciplinari qui chi si occupa di sostegno ha una capacità maggiore di utilizzare nuove tecnologie di strumenti compensativi scientifiche tecniche da ultimo umanistiche qui è indicato da ultimo linguistiche che in realtà si è leggermente alzata in questi anni perché nelle scuole sono arrivati tantissimi laboratori di lingue automatici che vengono utilizzati frequentemente diciamo che all'ultimo restano i docenti di materie umanistiche ora quando si va davanti a questi insegnanti e si parla di digitale di didattica e di opportunità pensando che tutto sommato la scuola dovrebbe essere il luogo dove le differenze si appianano si riducono al massimo per fare in maniera che comunque ragazzi e ragazze ragazzi provenienti da famiglie differenti con opportunità quindi diverse possano avere non mi piace la retorica quindi noi diciamo uguali opportunità perché non ce li hanno non ci sono uguali opportunità però il più possibile opportunità simili di che cosa andiamo a parlare con loro quando abbiamo questo 58% che già naviga utilizza strumenti e questo grosso gruppo di insegnanti con un'età media molto alta e delle capacità molto basse di nuovo secondo me anche su questo possiamo fare un capovolgimento invece che iniziare a dire abbiamo troppe donne o abbiamo una classe di insegnanti troppo anziani trascendo il fatto che vuole anche dire che non stanno entrando giovani tendenzialmente se noi pensiamo a un professionista di 51 anni usciamo dalla scuola immaginiamoci in un'azienda se noi pensiamo a un professionista di 51 anni abbiamo davanti una persona matura che ha lavorato per 25-30 anni che tendenzialmente potrebbe coprire posizioni abbastanza alte di coordinamento guidare i nuovi ingressi che ha una notevole esperienza di quello che ha intorno e della propria disciplina e che peraltro possiamo anche dire possiamo definirlo nel fiorfiore degli anni dell'attività lavorativa nel senso che 51 anni è difficile che uno vada a pensare alla pensione perché invece quando pensiamo alla scuola diciamo a 51 anni sono tutti vecchi no per nulla una proposta una idea in questo ce la dà legando al discorso di Jenkins la creazione di percorsi di avvicinamento e di sostegno al digitale che si basino non sulle competenze che gli insegnanti possano avere o non avere quanto su quel quadro generale quella collocazione orizzonte di senso quell'orizzonte di senso di significato di interazione che ha la tecnologia nella vita di un ragazzo esempi pratici perché mi rendo conto che in questa maniera non si capisce niente io ho fatto con dei laboratori con degli insegnanti di storia e filosofia di 62 e 64 anni sulla semantica digitale dove con carta e penna attribuivamo dei valori semantici a un testo taggandolo e inserendo le funzioni del testo in ottica semantica un insegnante di 62 anni a parte il fatto che un insegnante di 62 anni capisce al volo che cos'è un'ontologia e ha un livello di competenza cioè ha un livello di pensiero estremamente sviluppato che noi dobbiamo sfruttare su questo l'insegnante è colui che è in grado di definire che cos'è un dato e che cos'è un'informazione come legare un dato e come legare un dato a un'informazione la differenza ritornando al testo della semantica l'insegnante che identifica le funzioni di un testo storico piuttosto che di letteratura le ricorrenze in un testo di Dante ha perfettamente in testa le capacità necessarie per farlo e può in questo essere da guida nel senso con lo studente che in un certo senso ha magari una maggiore facilità di manipolazione dello strumento qui concludo perché direi che ho parlato anche troppo il succo è non è tanto insegnare tante cose a questi ragazzi perché imparino tante cose ma è riuscire a fornirgli quell'orizzonte di senso che peraltro dà anche a noi l'informatore e agli insegnanti un ruolo in quello che si fa grazie ok volevo adesso dare la parola a a Floriana perché torniamo al tema principale donne di informatica ok abbiamo capito che c'è necessità di modi nuovi di insegnare le cose a livello scolastico prescolastico scolastico però abbiamo capito che c'è bisogno anche di modelli Floriana che è un'informatica di successo nel mondo aziendale perché lavora per IBM e ha una master inventor di IBM quindi è una posizione ci sono pochi master inventor al mondo IBM ogni tot ne sceglie un po' Floriana ha anche capito che bisogna porsi come modello per fare in modo che le donne abbiano il coraggio di proseguire quella carriera giusto quindi racconta la tua esperienza così torniamo al tema io sono senza slide la legge di Murphy le mie slide non funzionano quindi va benissimo così comunque erano sarebbero state mezz'ora di slide per un pubblico di 15-16 anni quindi forse è meglio se questi slide non funzionano la prima immagine sarebbe stata una mia fotografia di quando avevo 15 anni in cui ero un maschiaccio un nerd vestita sempre con maglioni larghi con pantaloni larghi occhialoni a fondo di bottiglia in cui veniva drammaticamente schiacciata tutta la mia femminità per essere riconosciuta dai miei colleghi uomini come informatico proprio perché io nascevo appassionata di informatica dall'età di 13 anni quindi mi sono diplomata in informatica laureata in informatica borsa di studio il CNR di Genova sempre nel settore di informatica con un sogno nel cassetto lavorare in IBM sogno nel cassetto realizzato e lì lavoro da 25 anni e adesso sono un IBM master inventor e guido una squadra di innovatori una nuova struttura dell'IBM Italia in cui noi creiamo innovazione per nostri clienti privati e pubblici basati sul cognitivo sull'intelligenza artificiale quindi a noi i robot non ci spaventano anzi sono i nostri amici e ci supportano nel lavoro di tutti i giorni e aiutiamo le aziende nel capire come fare business su questo questo è il mio lavoro normale quello per cui mi pagano poi c'è il lavoro di un hobby non è un lavoro è quello di arrivare alle ragazze così come io da piccolina ho capito questa passione per l'informatica e seguendola ne ho creato una carriera andiamo dalle ragazze e portiamo questo messaggio tutto è nato nel 2012 quando ci ha contattato in IBM la professoressa Velardi che è la professoressa della sapienza di informatica dicendoci che nel 2012 si erano iscritte in informatica solo sette ragazze in sapienza ha chiamato l'IBM per avere dei fondi per comprare qualche gadget l'IBM non gli ha dato i fondi gli ha dato Ferrara dico io insieme abbiamo studiato capito e analizzato quale fosse il problema perché le ragazze non si iscrivessero in informatica prima di tutto le ragazze non sanno mi dispiace che qui ci siano tanti uomini informatici che potrebbero risentirsi l'informatica l'ha creata la donna la prima programmatrice è Ada Lovelace il primo compilatore una donna la parola bug che significa un virus è stato creato da una donna le icone che siamo abituati a utilizzare la cartellina o la la clessida l'ha creata una donna ma andrei avanti per ora su questa cosa quindi in realtà l'informatica è donna mi dispiace e le ragazze sono uomini potete applaudire uomini detto questo le ragazze rimangono molto sorprese come anche gli uomini perché gli uomini non lo sanno che in realtà tutto è nato da noi donne è vero anche poche donne lo sanno e allora cosa scopriamo con le ragazze abbiamo scoperto che le ragazze vogliono fare tutte medicina e perché vogliono fare medicina perché sono appassionate di questi telefilm di questi siceneggiati e lo sono io per prima Grace Anatomy Dr. House quindi questo medico questa donna dottore fantastica quello che cerchiamo di farli capire che si può avere fare un lavoro interessante piacevole anche nel settore informatico e soprattutto quello che condividiamo con le ragazze è che l'informatica è arte e l'informatico è un artista moderno non so quanti di voi conoscono Paul Klee Paul Klee diceva che disegnare è portare una linea a fare una passeggiata a me piace parafrasare dicendo che programmare è portare un bit che è l'elemento più piccolo dell'informatica a fare una passeggiata per me programmare il mondo dell'informatica è come essere un pittore perché il pittore ha una tela noi informatici abbiamo il monitor il pittore ha la tastiera il pittore ha i pennelli noi informatici abbiamo la tastiera il pittore ha i colori noi informatici abbiamo linguaggi di programmazione quindi e poi racconto le ragazze e faccio l'esempio di Facebook che in realtà è l'opera d'arte più visitata al mondo anche se in Italia ho scoperto che l'opera d'arte più visitata al mondo è Whatsapp siamo i primi al mondo come utilizzo di Whatsapp non ci batte nessuno e questo dimostra anche quanto tutte le generazioni come noi italiani riusciamo a trasformarci e abbiamo trasformato il nostro modo di comunicare quando ho regalato mia mamma due anni fa c'era uno scatolo carino l'aperto e dentro c'era uno smartphone mia madre ha fatto una faccia come se dentro ci fosse stato un topo era spaventatissima lo smartphone che cos'è questo oggetto in realtà adesso è bravissima e se io per le 8 del mattino non ho risposto al Whatsapp di buongiorno sono nei guai perché mi arrivano telefonate ogni mattina seleziona l'immagine più carina da mandare ai propri figli e mentre lei a Taranto io sono a Roma mia sorella Como mio fratello in Sicilia lei quotidianamente grazie a Whatsapp vede i suoi nipoti crescere il primo giorno di scuola il compleanno la prima gita giorno per giorno cosa che fino a due anni fa mia mamma si perdeva quindi se voleva vedere il figlio il nipote al giorno del compleanno o andava alla festa o aspettava qualche immagine fotografata e poi inviata credo che sia anche qualcosa del nia nia perché è veramente bravissima l'avrei assunta questo progetto nerd il progetto nerd non è roba per donne questo progetto nerd quest'anno ha avuto 832 ragazze in tutta Italia facciamo lezioni in streaming e che cosa insegniamo insegniamo le ragazze a fare delle chatbot chat più robot quindi l'intelligenza artificiale che dicevamo prima ogni gruppetto di queste ragazze istruisce perché nell'intelligenza artificiale non si programma più ma si istruisce questo sistema per qualcosa che vogliono loro per la scuola per i vestiti insegnano ad essere un fashion blogger fanno competizione alla Ferragni ad esempio una chatbot sui cibi sullo sport e ognuno di loro poi partecipa a questo concorso hanno due mesi in cui fanno questa chatbot e poi le più belle vincono e vincono cosa? tre giorni con noi con noi in IBM si appassionano il più bel successo è quello di vedere poi negli anni il numero di ragazze che si iscrivono quest'anno in Sapienza si sono iscritte 123 ragazze in informatica tutte 123 ragazze che avevano partecipato al progetto nerd negli anni precedenti e soprattutto quest'anno dopo che si sono iscritte quando mi hanno fatto il progetto nerd sono venute lì nei laboratori anche queste ex ragazze del progetto nerd quindi con tanto tanto entusiasmo questo per dire che normalmente cercherò di invogliare le ragazze a fare il progetto nerd in questo caso ve lo sto soltanto raccontando e c'è tanta passione tanto amore e tanta convinzione che in realtà non c'è differenza tra un uomo e donna l'intelligenza non ha sesso così come ci riusciamo noi donne ci riescono anche gli uomini il mio team è formato 50% uomini e 50% donne ma no perché volevo la quota rosa ma perché ho individuato 15 persone di cui 7 ragazze 8 ragazze e 7 ragazzi sono veramente in gamba e come dicevo prima l'intelligenza non ha non ha sesso il coraggio sì perché gli uomini si buttano ci provano non hanno mai paura le ragazze invece hanno bisogno di essere confortate hanno bisogno di vedere quello che diciamo prima dei punti di riverimento e a quanto pare portarlo in queste giornate che facciamo insieme per tutta l'Italia fa sì che loro capiscano che l'informatica è anche per loro è anche portata di mano per delle studentesse e spero poi negli anni successivi di averle anche come collega finito bene è un'iniziativa sicuramente lodevole da parte di IBM anche da parte di Fran qualcuno ha delle domande volete fare delle domande ne faccio una io veloce appunto questa è una bella iniziativa di IBM chiedo per curiosità mia ma esiste anche una discussione a livello interaziendale con aziende dello stesso livello di IBM e tra voi aziende dello stesso livello per far aumentare questo tipo di cultura perché credo che sia importante anche per la competizione globale che anche altre aziende facciano la stessa cosa assolutamente ce ne sono tante altre ovviamente siccome il progetto più carino è quel progetto nerd non nomino scherzo quello potrebbe essere il collante di tutto assolutamente ci sono tante quindi quasi tutte le aziende di informatica quasi tutte le aziende di informatica hanno un loro progetto un loro programma la cosa che mi sono scordata di dire è che domani ci sarà un hackathon qui proprio in questa sede in cui insegneremo alle ragazze a creare la prima chatbot se pensiamo che nel futuro immediato ci sarà un boom di creazioni di chatbot a livello italiano noi quest'anno con il nostro progetto nerd abbiamo creato 832 ragazze esperte di chatbot molto più esperte di qualsiasi informatico tipo che è in Italia perfetto grazie potrebbe essere anche poi un bel percorso magari anche collaborare con la didattica per creare magari gamification all'interno della scuola per cercare di partire ancora da più lontano cioè prenderle non prima dell'università ma ancora prima noi prendiamo ragazzine di 15-16 anni ah ok quindi ancora terzo superiore perché già al quarto al quinto hanno le idee chiarissime concludiamo qua il panel grazie grazie ancora tantissimo scusate perché io ho dei problemi di memoria con i nomi Eleonora Maria Cecilia e Floriana grazie ancora grazie 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 a tutti